questa è la doccia dalla stanza è vera è molto strano perché in pratica se io vado sul miscelatore qui io posso solo girare in questo senso qua ok fredda e estremamente calda che non ho la possibilità di tirare in questo senso ok che l'idea era quella di miscelare prima invece si deve già miscelare si può miscelare solo quando è già l'acqua già fredda e dunque è terribile per fare la doccia va bene per fare per fare il bagno ma non sicuramente la doccia ecco non ha la possibilità di far partire già tiepida e dunque bisogna stare attenti l'unica cortezza è faccio partire qui va e poi schiaccio questo una volta che vado qui caldo poi faccio partire e così alzo questo e viene la doccia e arriva l'acqua da qui che anche qui posso semplicemente non regolare la portata ma semplicemente come si dice magari portare più acqua in centro e magari meno all'esterno o diffonderla di più però non si può non si riesce assolutamente a modificare la portata come invece abbiamo noi in Europa e dunque è un po' scomoda la doccia è un po' scomoda bisogna abituarsi se non si prendono le gelate ok